Eravate intrappolati nella banca? Sì, e non restava molto tempo. Come a noi o... Così sono venuti in città. Dove esattamente? C'era una piazza fuori. Eravamo con la bomba dentro la banca, in attesa che Miller e MV3 arrivassero. Li ho chiamati alla radio per sapere quando sarebbe arrivato il supporto. Hanno detto tre minuti. Saremo lì in tre minuti. Dai, dai. Mi trovo di muoverci. Tirando a arrivare da un chilometro di distanza, giunto. Ehi, Egan. Siamo in toccato con quel cammino in qui? No, il segnale è visto fatto. Dovremmo ricevere qualcosa una volta sicurato con le strutture altre. Merda, le strade sono più scatti. C'è una strada secondaria sulla destra, però è fregge. Ok, diamoci dentro. Cazzo, amico, non va bene. Miller, vieni qui. Dobbiamo chiudere i portelli. Senza batteria, saremo cegli. Precresci, parti forse da un secchino? Di bene in meglio. RPG identificato. Netto, ingaggio, ingaggio! Colpiti, colpiti! Pilota, portaci via da quel cazzo! 3-3 colpito! 3-3 colpito! Ancora un beladino! Oh, merda! Oh, merda! Oh, merda! Oh, merda! Aspetta tu la pazza. Guardate, guardate. L'amaciano, puoi passare. Pilota, puoi passare. Grazie a tutti. 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 Ma perdere fa parte della crescita, no? Parte del crescere è accettare l'inevitabilità della morte. Accettare l'inevitabilità, signor Miller, della morte. Mio padre lo diceva sempre. Quindi lei sarà un eroe per suo figlio. Spero possa esserle di conforto. vergogna, vergogna. Questo è il prezzo. Non c'è il prezzo. Solomon era sul monitor con Al-Bashir. L'edificio è andato. 1-3, 1-3. è al buio. è al buio. Roger, passa allo stesso. Cerca i sei cani. Un quattro. Dove chiamo? Un tre. Imparateci l'altro da. Roger, devo spostarmi a destra prima. Passo. In posizione. Dobbiamo liberare la strada. Uno quattro. Siamo in posizione. Passo. Decevuto. Ci proviamo. Cosa vedi, Blackbird? Merda. PLR. Uno quattro. Aspettate. Nemici davanti a voi. Li attacchiamo. Passo. Uno quattro. Aspettate. Nemici davanti a voi. Li attacchiamo. Passo. Riferimento in posizione in squadra. A destra. Un paio di piani sopra la strada. Ammazza il tizio sulla balconata. Che cazzo fa? Letta. Andiamo. Ci vediamo di sotto. Ok. Libero. Andiamo. Andiamo. Vivo. A te. Vivo. Come on. Forza. Occhio. Nemici vicino al barriere. Non attaccare. Prima tu. Io ti copro le spalle. Aspetta. Ho visto qualcosa. Merda. C'è un tizio che controlla la strada. Riferimento neon sulla sinistra. Primo piano. Dico e allo scoperto. Eliminiamo. Ok. Come. Veloci. Prima che torna. A presto. A presto. Ammazzali subito. È il colpo. 1-4, via libera. Mojan, ci muoviamo. Copriamoli mentre si spostano. Un'altra volta giù, restare al riparo. 1-3, un attimo. Come sbagliati, non possiamo raggiungervi al momento. La ricevuta. Rosa, avanti. Avanti, perfetto. Avanti, raggiungervi al momento. La ricevuta. La ricevuta. Avanti, raggiungervi al momento. Avanti, raggiungervi al momento. Rosa, poteri. Silenzio. Usa il coltello. No. 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 guarda, 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 guarda Sì, sì. 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 Sì. Sì, sì. Sì. Sì, sì. Sì, sì. 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 Sì, sì. 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 Sì, sì. 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 Sì, sì. 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 Sì.